Allora, buongiorno, possiamo cominciare, benvenuti a tutti. Siamo qui, come tutti sanno, per la giornata conclusiva dei lavori di coloritura delle due vite a Gimnasio, che sono state così guidate dal libro del professor Lenzano, subito di Enea. Adesso, oggi, vedete il professor Lenzano, per neosso, potete aver letto alcuni capitoli del suo libro, il professor Lenzano di Seria Lingua e Lettatura Ottina all'Università di Siena. Adesso ci farà appunto una ripresione dal vivo su alcuni aspetti della storia del mito di Enea. Ringraziamo moltissimo la dottoressa Tonet che ci ha permesso di fare quest'ultima giornata proprio sotto gli affreschi di Palazzo Leoni che rappresentano l'Eneide e ringraziamo tutti quelli che ci hanno aiutato e anche i presse che è venuto qua a sentire e a vedere i lavori dei ragazzi. Io ho subito la parola al professor Lenzano e appunto adesso dirà cose che poi dopo ritroverete nel vostro corso di studi negli anni prossimi. Vabbè, allora, buongiorno a tutti. Sono molto felice di essere qui e ringrazio come vuole la cortesia, ma in questo caso anche l'amicizia, la professoressa di Lacondini per questo invito, la scuola, insomma, e poi chi gestisce questo luogo meraviglioso che ho visto fino a questo momento soltanto il prodotto e l'immagine, ma che visto dal vivo, devo dire, fa tutto un'altro effetto e poi parlare di Enea, insomma, in un contesto in cui lo vediamo rappresentato dappertutto e è una cosa che anche a me che ho presentato questo libro in varie parti d'Italia non era ancora mai capitato, quindi sono molto contento. Allora, io vorrei dire tre cose brevissime prima di cominciare. La prima è questa, vorrei cercare di non essere eccessivamente lungo, che è una cosa che tipicamente gli studenti apprezzano sempre, insomma, il dono della sintesi. Quindi vorrei cercare di ridurre la mia esposizione nell'alto di 40-45 minuti in quipi. Vorrei cercare di non essere noioso, e questo è già un obiettivo che mi tenete molto più difficile da raggiungere rispetto al precedente, però ci provo quantomeno, ma soprattutto la cosa da cui tengo di più è che mi piacerebbe molto che, quando ho finito di parlare, alla fine della chiatterata che faremo adesso, voi accettaste di entrare in una forma di interlocuzione, di dialogo, proponendo domande, dubbi, critiche, incertezze, proteste, polemiche, insomma, qualsiasi cosa che non comporti il raccio di oggetti contro chi sta parlando. E a me in generale non piace, non mi piaceva neanche quando ero insegnante, mi è insegnato per 12 anni al ginnasio e insomma mi definisco un professore di ginnasio prestato all'università. Quindi non mi piace l'idea che tra chi sta da un lato, la cattedra, consideravo una roba cattedra, questa, anche se non ho tecnicamente, chi sta dal programma ci deve essere una rigida immissione dei compiti, per cui chi sta di qua deve solo parlare e chi sta di qua deve solo ascoltare. Insomma, è una cosa che non ha senso, perché voi non siete semplicemente delle orecchie che si devono impregnare dei contenuti che vengono trasmessi dall'esterno, voi siete delle teste pensanti e in quanto teste pensanti potete dare il vostro contributo al progresso della conoscenza, diciamo così. Se io parlerò un po' più di voi e per la banalissima ragione che al tema del quale ci rubiamo stamattina io ho dedicato una parte del mio tempo abbastanza consistente, quindi ne so un po' più di voi, ma al di là di questa differenza del tutto contingente, noi siamo tutti quanti insieme una comunità appunto pensante e come tale possiamo lavorare insieme per cercare di capire le cose ancora a me. Fatta questa premessa vado ad incominciare, tenete sott'occhio i fogli perché ci serviranno insomma tra poco per fare riferimento ad alcune delle cose, delle cose delle quali ci è bene, allora, buio, fiamme che si levano all'orizzonte, urla di madri, bambini per le strade, spade che buttano contro altre spade, la città che da 10 anni era sotto al sedio è stata conquistata, i nemici dilagano per le sue strade, gli abitanti della città l'ho capito che ormai per la loro salvezza non c'è più nulla. In una parte della città che non è stata ancora raggiunta dei combattimenti c'è uno strano gruppo familiare che si muove nella notte, è formato da un uomo che porta un vecchio sulle spalle, che tiene per mano un bambino, che è seguito da una donna che presumibilmente sarà la madre di questo bambino e da un altro gruppo di abitanti della città che hanno capito appunto che oramai per il loro paese non c'è più nulla da fare che l'unica salvezza consiste nella fuga. Forse perché sono particolarmente fortunati, forse perché sono godo della protezione degli dei, fatto sta che questo gruppo di superstiti riesce a raggiungere le porte della città, le supera, arriva fino al mare, si imbarca su un gruppo di navi che sono lì nel porto della città e intraprende un viaggio. Un viaggio che nei mesi successivi, negli anni successivi porterà questo gruppo di superstiti a colcare le coste della Grecia, poi nelle isole del mare Gero, poi si dice che questo gruppo giunge fino in Sicilia o addirittura fino alle coste del Nord Africa finché dopo un lunghissimo tragitto i superstiti della città distrutta tanti anni prima giungono alle foci di un grande fiume, il Tedere. Qui finalmente si stanziano nel nuovo territorio che hanno raggiunto, sposano le principesse e le donne delle popolazioni che incontrano e da questi matrimoni ha inizio una discendenza dalla quale molto tempo dopo nasceranno Romulo e Remo, i due gemelli fondatori della città di Roma destinata a solo per diventare signora del mondo. Ecco, quello che abbiamo provato a descrivere in questi toni un po', se volete, dal film d'azione americano, è nel nostro immaginario collettivo, ammesso che esista un immaginario sul tema di questo genere, il mito di Enea, perché lui è il personaggio che fugge con il padre sulle spalle, il figlio permane, la moglie che lo segue, è lui quello che si imbarca insieme con gli altri esuli troiani alla ricerca di una nuova terra per cui insediarsi. Ed è il mito di Enea nella nostra mente per una ragione molto, molto solida e cioè perché questo è il modo in cui il mito di Enea è stato raccontato dal più grande cuore carattino di tutti te, e cioè Virgilio. E allora, siccome Virgilio ha avuto nella storia della cultura europea, della cultura occidentale, un'influenza enorme, la storia della nostra cultura sarebbe stata diversa senza Virgilio, ecco che nella nostra testa si è formata l'idea per cui il mito di Enea è quello, è quello che racconta Virgilio, semplicemente perché Virgilio è la fonte più autorevole che lo racconta e il modo in cui lo racconta si è imposto anche nell'epoca successiva. Però, in realtà, quando Virgilio inizia a raccontare il mito di Enea, questo mito è vecchio già di mille anni. E in questi mille anni della sua storia è continuato a modificarsi, ad arricchirsi, a prendere strade nuove, ad arricchirsi di personaggi diversi, ad assumere significati, meni e così via. E anche quando il mito arriva nelle mani di Virgilio, anche se ormai si era abbastanza definito nella sua struttura fondamentale. Però questo mito continuava, in certi punti, in certi segmenti della sua storia, a presentare varianti diverse. Che cosa significa varianti diverse? Significa che c'erano autori diversi, poeti diversi, che raccontavano certi passaggi del mito in maniera diversa. E addirittura, Virgilio, in alcuni casi, non aveva ancora deciso quale variante tra quelle che gli comparivano nelle fonti fare sua. Come possiamo immaginare che Virgilio componesse la sua emette? Beh, facciamo finta che fosse ad un tavolo e avesse davanti a sé le opere dei poeti e degli autori che prima di lui avevano trattato il mito di Enea. E si rendeva conto che certi passaggi del mito erano raccontati in modi diversi, da fonti diverse. E lui non aveva ancora deciso quale variante adottare. E addirittura nell'Eneide, da un libro all'altro dello stesso poema, si trovano varianti diverse nello stesso passaggio del racconto. Com'è possibile che questo succeda? Perché Virgilio, come forse sapete, non aveva il tempo di apporre l'ultima mano, di fare l'ultima revisione all'Eneide. Virgilio si ammalò, morì sul letto di morte e chiedeva insistentemente che il suo poema venisse dato le fiamme, perché Virgilio era un perfezionista, era un sacerdote della forma e quindi non avrebbe mai voluto che l'Eneide venisse pubblicata in perfetta, senza che lui avesse avuto modo di fare l'ultima revisione. Però, per nostra fortuna, magari gli studenti non sono dello stesso avviso, Augusto ha deciso di pubblicare lo stesso l'Eneide così com'era. E così noi abbiamo l'Eneide che presenta entrambi il punto di incompetezza, addirittura ci sono dei versi lasciati a metà, perché Virgilio non aveva avuto il tempo di scriverli per intero. E da un libro all'altro dell'Eneide ci sono alcune incongruenze, alcune contraddizioni, contraddizioni che Virgilio avrebbe naturalmente eliminato se avesse avuto il tempo di farlo. Però era morto prima di poterlo fare e allora nel testo che noi leggiamo succede che da un punto all'altro del po' ci sono queste piccole contraddizioni. Allora, questo ci fa capire una prima cosa importante sulla quale voglio attirare la vostra attenzione ed è questo. Il mito è un tipo di racconto diverso da ogni altro tipo di racconto e la sua diversità consiste in questo. Il mito è un tipo di racconto che non raggiunge mai la sua forma definitiva. Non si può mai dire che il mito è quello e quello è destinato a rimanere nel tempo. Perché il mito cambia in continuazione. Ogni volta che un poeta lo racconto, ogni volta che uno storico lo riprende, questo mito viene contemporaneamente cambiato, modificato. E non è che abbiamo un criterio per cui possiamo dire ecco, questa è la versione giusta e questa è la versione sbagliata. Non c'è un criterio. Le versioni sono tutte giuste e tutte sbagliate contemporaneamente. Ad un mito non si può chiedere come sono veramente andate le cose. Pensiamo ad un mito cerebrano, quello di Ulisse. Com'è morto Ulisse? Omero dice che è morto di vecchiaia nella sua vita che ha circondato dall'affetto dei suoi subiti. una bellissima morte. Altre fonti raccontano che invece è morto, ucciso per errore, dal figlio che aveva avuto dalla maga Circe. Com'è veramente morto Ulisse? A questa domanda che a noi sembra perfettamente ragionibile, non c'è una risposta molto variamente. Perché non esiste una versione canonica, una versione giusta, corretta del mito e l'altra invece è sbagliata. Autori diversi raccontano questo mito in modi diversi. Va bene? Succede un po' nel caso del mito, ora perdonatevi questo paragone un po' di riferente, ma succede un po' nel caso del mito quello che succedeva in quel gioco che noi facevamo da bambini. Vi è mai capitato di fare quel gioco in cui un gruppo di ragazzi si mettono in fila? Dopodiché il primo dice una cosa all'orecchio del secondo, il secondo lo ripete all'orecchio del terzo. E il divertimento di questo gioco è vedere che cosa arriva all'ultimo della fila. E solitamente si scopre che l'ultimo della fila ha capito una cosa completamente diversa da quella che è il primo della vento. Perché sto facendo questo paragone? Perché il mito si trasmette, è un tipo di racconto che si è trasmesso per secolo in forma orale. Non è stato messo per scritto, veniva raccontato. E quando una cosa viene trasmessa in forma orale, come dimostra appunto questo giochino che facevamo da bambini, quando una cosa, anche una semplice frase, quindi immaginatevi una storia intera, viene trasmessa in forma orale, fatalmente nel soggetto a modificarsi. Perché viene fraimpesa, viene capita male, o perché chi la ripete vuole arricchirla, vuole aggiungerci degli altri dettagli. Insomma, il mito ha questa caratteristica. In realtà deve essere un racconto che cambia continuamente, che non raggiunge mai una forma rispetto alla quale si possa dire, beh, allora, da qui in fuori le cose non cambiano più. Ormai il mito si è stabilizzato, diciamo così, in questa forma. Va bene, andiamo avanti. Ma se il mito di Enea non lo ha creato il Giro, se anzi quando il Giro comincia a raccontare questo mito, questo mito aveva già alle sue spalle un millennio di vita, da dove viene? Bene, quando noi ci poniamo una domanda di questo genere a proposito del mondo antico, delle letterature antiche, dei miti e così via, la risposta nella stragrande maggioranza dei casi è sempre una. Omero. L'Iliate lo disserva Omero, sono una specie di gigantesco contenitore di tutto quello che è venuto successivamente. Come se tutti i poeti, tutti gli scrittori dell'epoca successiva non avessero fatto altro che tirare fuori da Omero una serie di spunti, di racconti, di personaggi che magari non erano a livello embrionale, ancora appena appena sviluppati e gli autori dell'epoca successiva si incaricano invece appunto di sviluppare in maniera più ampia, di riprendere in maniera più compiuta. a volte mi viene da pensare che Omero sia una specie di big band dell'universo mitologico degli antichi, come se appunto tutto quello che è venuto dopo fosse già contenuto in Omero e appunto gli autori successivi non avessero fatto altro che riprendere quello che Omero in realtà aveva già detto. Qualcuno ha detto che tutti i romanzi che sono stati scritti nella storia della cultura europea non sono altro che variazioni dell'Odissea, ma nell'Odissea c'era già tutto. Ora che è un paradosso, come capite bene, però il paradosso è sempre un fondo di verità. E qual è in questo caso il fondo di verità? Beh, che se voi avete presente anche solo vagamente la trama dell'Odissea sarete d'accordo che nell'Odissea in qualche modo ci sono già tutti gli ingredienti tipici di un romanzo perché c'è il viaggio, c'è la ricerca, c'è l'avventura, c'è la guerra, c'è l'odio, c'è l'amore, c'è la meddetta, insomma tutte le cose che noi vorremmo vedere in un bel film ci sono già l'Odissea, come se in qualche modo Omero avessi già scritto le regole di un buon romanzo e gli autori dell'età successiva non avessero fatto altro di sfilarsi a quel modello. Ora naturalmente ripeto che è un paradosso, sarebbe un po' triste pensare che migliaia di scrittori non abbiano fatto altro che riprendere quello che Omero in fondo aveva già fatto vittissimo al meglio di loro. Però in questo paradosso appunto c'è una verità profonda e Omero è questo. E dunque in Omero è meaceggiato. È un personaggio dei leader, è un guerrier ottoregano, piuttosto valoroso, non un personaggio della prima fila, non è Ettore, non è palido, non è uno dei grandi eroi, diciamo così. Se fossimo anche degli Oscar e Nea prenderebbe un premio come miglior attore da un protagonista, non potremmo dire. Perché è un personaggio un po' della seconda fila, uno che è importante ma poi non troppo. Però già Omero dice che viene stimato dai suoi concittadini, che onora profondamenti di idee e viene fatto combattere con importanti guerrieri dell'esercito greco. Questo non è un personaggio che ha comunque una certa rilevanza. Una cosa però c'è che se qualcuno, un contemporaneo di Omero, avesse dovuto scommettere sul successo di Enea nei secoli futuri, avesse dovuto scommettere che Enea sarebbe diventato un grande protagonista dell'immaginario poetico dei secoli successivi, beh io credo che difficilmente avrebbe azzardato i suoi denari in una scommessa di questo genere. Perché in effetti in Omero sembra non esserci nulla che lasci immaginare, che lasci presagire il fatto che Enea sia destinato appunto davvero una tale fortuna nelle opere dei secoli successivi o nei palazzi bolognesi. Va bene? Nessun elemento è presente in Omero, tranne uno. Uno solo. Ma questo elemento è stato decisivo per assicurare il successo del mito di Enea. Probabilmente senza questo elemento il mito di Enea non sarebbe mai nato. E l'elemento in questione è il seguente, due punti. Dalla guerra di Troia, Enea si salverà. Da questa carneficina che è destinata a fare strage di eroi e guerrieri da una parte e dall'altra è destinata a salvarsi. E questo destino è stato voluto dagli dei stessi. Questa cosa viene chiedita da Omero in un passaggio importante del ventesimo libro dell'Italia. Che cosa succede in questo passaggio? Enea è sul punto di scontarsi in duello con Achille. I due guerrieri si sono già reciprocamente presentati perché sapete nella poesia omerica prima di... esiste un bon ton, diciamo così, del duello per cui i due guerrieri non iniziano semplicemente a prendersi a botte. Prima si presentano reciprocamente, declinano la loro genealogia e soltanto quando hanno saputo chi sono reciprocamente cominciano a duellare. Bene, Enea ed Achille lo hanno già fatto, hanno già squainato le spalle, sono sul punto di intrecciare la loro duello quando improvviso scende dallo cielo il dio Poseidone il quale interviene per impedire che questo duello abbia ruolo. E' il passo numero due che legge in fotocopia. Sentito questo, il dio che scuote la terra mosse in battaglia in mezzo alle lance, laddove stavano Enea e il nobile Achille. Versò la figlia di Peleo, cioè appunto l'Achille, nebbia sugli occhi, e tolse dallo scudo del magnanimo Enea la lancia di frassino con l'ormento di bronzo e la mise davanti e i piedi ad Achille, poi spinse Enea sollevandolo in alto da terra. Molte figlie d'eroe, molte di tavali Enea superò con un balzo spinto dalla mano del Dio e c'è l'ultima fine della battaglia effettuosa. Come sapete i nomi ero di Dei non sono degli imparziali spettatori della guerra. Noi dobbiamo immaginare come dei personaggi seduti su una nuvola che guardano dall'alto i due eserciti che si scontrano tra loro. Tutto il contrario. Gli Dei Omerci sono Dei molto interventisti, compiono continuamente quella che in un gerbo calcistico si chiamerebbe invasione di campo, insomma intervengono lì, prendono le parti dell'uno dell'altro, accendono a quello, restituiscono l'arma a quell'altro che l'aveva persa. Insomma sono tutt'altro appunto che imparziali ed estrarli al combattimento. E qui vedete bene come Poseidone interviene. C'è la lingua negli occhi di Achille, gli impedisci di vedere il suo avversario e per maggiore sicurezza solleva Enea e lo porta alle spalle dell'esercito troiano. Questo Dio non sa da fare. Ma perché non sa da fare? Lo spiega lo stesso Poseidone nel passo immediatamente successivo. Qui è Dio che sta parlando. Mettiamolo dunque in salvo d'amore. Che non si irriti il figlio di Crono, cioè Zeus, se a chi glielo uscite, giacché il suo destino è di salvarsi. Ecco qua. Questo è il verso che ha dato origine al mito di Enea. Perché non rimanga prima la discendenza e non sparisca la stirpe di Dardan, che Zeus ha morti di tutti i suoi figli che gli sono nati da donne mortali. Adesso che il figlio di Crono ha preso i nodi e la stirpe di Primo, il fortissimo Enea regnerà sui troiani e i figli dei suoi figli e quelli che verranno dopo. Allora che cosa succede? Succede che così come gli dei intervengono nelle vicende militari, intervengono anche nelle vicende politiche. Allora Zeus ha deciso che al vertice della città di Troia ci debba essere un cambio. Non devono più essere re Priano e i suoi figli diretti, come Ettore, Palio, eccetera, eccetera, ma il potere deve passare ai discendenti di Dardan, che fanno parte anch'essi della famiglia reale. Però, diciamo così, sono dei cugini, come possiamo dire. Non sono... di loro natura non diventerebbero mai re, perché a quant'è non ha un ramo collaterale della famiglia, non ha un ramo principale. E sono i discendenti di Dardan, che è il figlio di Zeus e di una donna mortale. Va bene? E tra questi figli di Dardan c'è anche Enea. Quindi Zeus ha deciso che il potere a Troia, cioè, dobbiamo immaginare a quelli che sopravviveranno alla distruzione della città, ma debba passare ad Enea, ai suoi figli, ai suoi figli, ai suoi figli per molte generazioni, mentre i priabili, i discendenti di Dardan devono essere spazzati. Bene, questo è quello che racconta Omero nel ventesimo libro di Dardan. Se non te che cosa succede? Nei decenni, nel secolo di Ciccistina, abbiamo detto che il mito è un racconto che cambia in tutta in azione. Succede che Enea si trasforma in un eroe viaggiatore. Mentre in questi versi di Omero sembrerete che Omero immagini di Enea, che rimane a Troia, lui e i suoi discendenti continuano a governare sui troiali, i poeti successori di Omero cominciano a dire che Enea invece si mette in viaggio. E prima lo fanno arrivare nella Pracia, nella Macedonia, quindi nella costa nord-orientale della Grecia. E poi si comincia a dire che una tomba di Archise e il padre di Enea si trova nell'Arcadia, cioè nel cuore della Grecia continentale, che vuol dire che Enea è stato anche lì. E poi si dice che le due città del Peloporneso prendono i nomi di due figlie di Enea, quindi significa che i troiali sono passati anche da lì. E poi che Enea è sbarcato a Creta, e poi a Delo, e poi in Sicilia, e poi in Nord-Africa. affinché ad un certo momento questo mito di Enea si intreccia con un altro mito. Un mito che nel frattempo i romani avevano lavorato per i fatti loro e che originalmente non avevano nessun rapporto con il mito di Enea, e cioè il mito di Romolo Eureo, figli del Dio Marte di una sacerdotessa della Dea Ernesto. Questi due miti che, ripeto, per molto tempo avevano viaggiato parallelamente l'uno all'altro, senza avere rapporti, ad un certo momento, e questo certo momento non è facile da capire quale sia stato, insomma, se poi qualcuno è curioso noi possiamo raccomare, si legano troiali. E allora si comincia a dire che Romolo e Remo sono in realtà figli di Enea, oppure figli di una figlia di Enea, e quindi che c'è uno stretto rapporto, insomma, tra il fondatore di Roma e il capo stilite troiali, finché poi ad un certo momento gli eruditi non si rendono conto che Troia è stata distrutta nel XII secolo a.C., Roma è stata fondata a metà dell'Ottavo secolo a.C., ci sono quattro secoli in mezzo a questi due eventi, quindi con tutta la buona volontà. Romolo e Remo possono essere né figli né nipoti di Enea, perché non si riuscire a riempire questo spazio di quattro secoli, e allora il mito inventa tutta una serie di rei alba longa che, poverini, hanno semplicemente la funzione di riempire un buco, quella che gli studiosi hanno chiamato più legalmente la cuna mitica, ma che, insomma, possiamo chiamare un buco nel mito. Questi quattro secoli per improvviso si sono aperti tra Enea e Romolo e Remo che andavano colmati in qualche maniera e allora il mito si inventa che ci sono una serie di rei che, piano piano, trasmettono il sangue di Enea, il sangue di Troion, fino ad arrivare, appunto, a Romolo e Remo. Quando poi Roma cessa di essere una repubblica e diventa un principato, i rifraudati, Cesare, Augusto e così via, che cosa succede? Succede che il mito di Enea si arricchisce di una valenza ulteriore, perché Enea non è più considerato semplicemente il capostipite dei Romani in generale, ma anche il capostipite della Gelsi Iudia, cioè della famiglia della quale fa parte l'imperatore. Insomma, questo mito è diventato anche la storia sacra, diciamo così, della famiglia Veniante a Roma, quindi si è arricchito, appunto, un significato ancora più grande. Bene, facciamo un altro passo avanti. Qual è l'effetto di questa situazione? L'effetto di questa situazione è che, dunque, tra il mito come lo raccontava Omeno nel passo del ventesimo del rire che abbiamo letto, cioè Enea resterà a governare sui troiani lui e i figli dei suoi figli per molte generazioni. E quello che il mito nel frattempo aveva cominciato a raccontare, cioè che Enea ha raggiunto fino in Italia, l'Italia ha raggiuntato il capostipite dei Romani, capite bene che si crea una contraddizione insanabile, come Paon, Enea contemporaneamente a rimanere a Troia e a diventare il capostipite dei Romani. Evidentemente queste due versioni contrastano nazionalmente. Ora, voi direte, beh, professore, ma lei stesso ci ha detto che i miti possono raccontare versioni molto diverse e che va tutto bene. Sì, è vero, va tutto bene, se non che c'è un problema. E il problema è costituito dal fatto che Omero, per gli antichi, è un poeta straordinariamente autorevole. non è un testo sacro, il Dio dell'Odissea non sono paragonabili all'Antico Testamento per gli ebrei, insomma, non sono un testo, una rivelazione divina. I greci non avevano mai pensato che Omero fosse un dio, va bene. Il suo testo è un bellissimo testo di poesia, ma è un prodotto esclusivamente umano. Però è un testo straordinariamente autorevole. E dunque noi non possiamo liberarci di quello che dice Omero semplicemente con una scrollata di spalle, dicendo, va bene, evidentemente è vero, si era sbagliato. Questa contraddizione è una contraddizione che richiede di essere risolta. Vediamo, per esempio, cosa ne pensa un personaggio che probabilmente non mi sarà mai tentato di sentire nominare, non mi preoccupate, non è colpato della vostra ignoranza, è lui che non è un autore particolarmente famoso e particolarmente letto nella scuola. È un geotra, si chiama Stramone, è un contemporaneo Augusto, addirittura di lui sono nati nello stesso anno, probabilmente il 63 a.C. Ebbene, Stramone a un certo momento, nel tredicesimo libro della sua geografia, in cui racconta la geografia, descrive la geografia dell'Asia minore, cioè della regione in cui sorge la città di Troia, Stramone dice, Omero indica chiaramente che ne hanno emasi a Troia ed ereditò il regno passandolo poi ai figli dei figli, dal momento che la famiglia dei preabili era stata spazzata via. E a questo punto vi ho messo il segno di Omistis, la parentesi quadra con i tre puntini, perché Stramone cita esattamente i versi del ventesimo libro che abbiamo già letto, che non li vedete, non ti mettervi nuovamente qui. Quindi Stramone giustamente ricava quei versi che secondo Omero Enea sarebbe rimasto a Troia. Il nome di Omero è ancora più in disaccordo con quelli che parlano di un Enea che avrebbe vagato fino all'Italia e che in Italia lo fanno morire. Ora notate bene che Stramone però comprende posizione, non dice secondo me hanno torto quelli che parlano di un Enea che arriva fino in Italia, ha ragione Omero, non dice neanche il contrario, non si pronuncia. Forse anche perché lui è un contemporaneo di Augusto e Augusto non era un imperatore molto tenero nei confronti del dissenso, nei confronti di quanti assumevano posizioni che potevano sembrare ostili all'imperatore. Ora dire che Enea non era mai arrivato in Italia significava automaticamente dire che dunque Augusto non poteva essere discendente di Enea. I giuli in generale non potevano essere discendenti di Enea perché se Enea in Italia non c'era mai arrivato, come era possibile che questa famiglia discendesse da lui. E quindi Stramone prudentemente osserva che ci sono due versioni incompatibili del mito ma non dice secondo lui quale delle due versioni essere giusta. Però ci dice una cosa molto curiosa perché il passo si conclude. Alcuni però scrivono la stirpe di Enea governerà su tutti e i figli dei suoi figli intendendo i romani. A che cosa fa riferimento questo Stramone? Io qui non a caso vi ho messo il greco di Omero, che sia pure traslitterato perché non sapevo se tutti quanti voi voi stai in grado di leggere carattere greci. E se avete la pazienza di confrontare la fine del brano numero tre con la fine del brano numero quattro, vedete che Omero scrive nell'ideale Stramone ci dice che qualcuno aveva manipolato il testo di Omero, lo aveva falsificato, aveva creato un falso testo di Omero nel quale c'era scritto Cioè la stirpe di Enea governerà su tutti. E cosa avevano fatto questi fakers, questi falsari? Avevano modificato due parole chiave del testo di Omero. Die, forza, diventava genos, stirpe, quindi discendenti, ma soprattutto troessi, troiani, diventava pandessi, tutti. A questo punto Omero non diceva più Enea dove vennerà sui troiani, diceva Enea dove vennerà su tutti, la stirpe di Enea dove vennerà su tutti, intendendo i romani. Quindi, secondo questi falsari, addirittura Omero avrebbe profetizzato il futuro impero di Roma e lo avrebbe scritto nella sua richiede. E vi risparmio, per questioni di tempo, i modi complicatissimi in cui gli antichi si sono immaginati che Omero dovesse avere qualche conoscenza sull'impero di Roma di cui era vissuto molto tempo prima che era una cosa fondata, perché gli antichi si fondono anche questo problema certo da qualche modo di risolvere. Un altro autore, anche lui contemporaneo di Augusto, che distrapò uno storico, che si chiama Dionigi di Carmasso, si vuole anche lui il problema della contraddizione da quello che era Pornomeo e quello che nel frattempo il mito di Enea aveva raccontato. Che cosa dice Dionigi di Carmasso? Era necessario per me riferire queste cose e fare questa digressione, in quanto alcuni storici affermano che Enea non è mai arrivato in Italia con i proiettari. Quindi la stessa cosa che diceva Storbo. Altri che si tratta di un altro Enea, non del figlio di Archisi e Afrodite, mentre però altri dicono che si trattava di Ascani, figlio di Enea o di figure diverse. Quindi qualcuno aveva cercato di risolvere la contraddizione dicendo che l'Enea fondatore di Roma non era lo stesso Enea di cui parla Enea, cioè il figlio di Archisi e Afrodite. Era un altro, un tizio, anonimo, sconosciuto, che casualmente si chiamava anche lui Enea. Una soluzione, diciamoci la verità, un po' goffa, un po' rossa, insomma assai poco soddisfacente. Per i romani farsi fondare da uno che non si sa bene chi sia e l'unico figlio di me è quello di chiamarsi casualmente Enea, come si chiama Enea di noi o meno, beh, non è una gran cosa, non è una grande soluzione. Alcuni sostengono poi che Enea, figlio di Afrodite, cioè l'Enea giusto, quello di cui parla Enea, dopo aver insediato i suoi compagni di Dalia, tornò in patria, regnò su Troia, morendo, lasciò il trono in verità da scambio suo figlio e i cui discendenti lo possedettero per lungo tempo. Quindi qualcuno aveva studiato, aveva cercato di risolvere la contraddizione in maniera un po' più raffinata. Dicendo che l'Enea, fondatore capostiti dei romani, è lo stesso Enea di cui parla Omero. Ed effettivamente, come dice Omero, questo Enea era rimasto a governare a Troia, ma prima di rimanere a governare a Troia, aveva fatto giusto un salto in Italia, il tempo di fondare la città di Roma e poi era tornato precipitosamente in Asi Minore. Quindi, in questo modo, si cerca di risolvere la contraddizione, di salvare i versi più o meno, trasformando questo povero Enea in pendolato e forse nato che corre da una parte all'altra e vi tirerà una fondata città, giusto per non contraddire quello che Enea aveva detto. A questo punto, Dio Luigi Dei Carasso spodera la sua soluzione, che è un capolore e bellissima. Perché è una soluzione che senza in nessun modo intervenire sul testo di Omero, ma limitandosi semplicemente a interpretarlo, trova la quadratura del cerchio. Che cosa dice Dio Luigi? Dice, io ipotizzo che questi scrittori abbiano frainteso il senso di versi di Omero. Siccome supponevano che Omero desse quei uomini come regnanti in friggia, non c'è una ragione di trovia, essi inventarono il ritorno di Enea, come se non fosse costibile per loro regnare sui Troiani in Italia. Non era impossibile infatti per Enea regnare sui Troiani che avevano portato con sé, pursi organizzati politicamente da un uomo. Che cosa dice Dio Luigi? Dice, attenzione, Omero non dice affatto che Enea governerà a Troia. Dice che Enea governerà sui Troiani. Ma i Troiani che sono venuti con Enea in Italia sono Troiani. E i Romani che sono discesi da quei Troiani venuti con Enea in Italia, tutto sommato possono essere chiamati Troiani essi stessi. Quindi Omero non sbaglia a dire che Enea governerà sui Troiani. Bisogna però capire che quei Troiani che parla Omero non sono i Troiani rimasti a Troia, ma sono i Troiani che sono venuti insieme con Enea in Italia e sono i loro discendenti romani. Quindi Omero non va toccato. Omero ha detto la cosa giusta. Sono i suoi lettori che non hanno capito a quali Troiani Omero facesse riferimento. non a quelli che erano rimasti a Troiani, ma a quelli che erano giunti con Enea in Italia. Beh, allora, salto un po' di passaggio perché il tempo sta passando vertiginosamente e vi dico semplicemente che tra le molte varianti del mito di Enea una assai poco conosciuta è quella che vede Enea come traditore della sua città. Esisteva certa variante del mito secondo la quale Enea e i suoi compagni si erano salvati non perché i dèi li avevano protetti, non perché gli dèi avevano voluto la loro salvezza o avevano affidato a Enea il compito di fondare nuove mura per le divinità titelare della città di Troia. Niente al fatto, si erano salvati per una ragione molto più solida, molto più squalida perché a un certo momento, Enea e altri, si erano recati dall'accampamento dei greci e si erano messi d'accordo con i loro nemici dicendo noi siamo disposti ad aprirvi le porte della città a tradimento in cambio dell'incolubità per noi, per i nostri cari e magari anche di un po' di risorse materiali che non fanno mai male. e i greci avrebbero accettato questa proposta. Quindi secondo questa variante del mito, Enea era un rinnegato era qualcuno che aveva appunto venduto la sua città ai greci. Ora, la cosa curiosa è non soltanto pensare che questo passaggio di Enea che noi siamo abituati ad immaginare come un grande ove, come un modello di comportamento e così via invece per un altro filone del mito fosse addirittura un traditore, un venduto, un rinnegato. Ma la cosa che fa più curiosa è che anche questo aspetto, questa variante del mito di Enea affonda le sue abici in Omeo. Omeo è un autore taliterico che contiene tutto il contraria di Egitto. In Omeo si possono trovare le matrici dell'idea di Omeo, di grande capostifiche come grande fondatore di una dinastia rignante ma si possono anche trovare le matrici del mito di Enea come traditore. Solo che ci dobbiamo spostare in un altro libro, non più nel ventesimo dell'Iliade ma nel tredicesimo. Che cosa succede nel tredicesimo libro dell'Iliade? C'è un eroe troiano, delifo, il quale esce sul campo di battaglia. Esce sul campo di battaglia e si pone una domanda se affrontare i nemici da solo o chiedere il mito di qualcuno. E prudentemente opta per questa seconda scelta e quindi si guarda intorno per cercare Enea perché vorrebbe il suo aiuto per combattere contro i greci. Vediamo che cosa dice il passo del numero 10 del vostro andato. Così disse, ed Elifomo oscillava tra due pensieri, se ridirarsi e cercare l'aiuto di qualche compagno per i mediali magnani o tentare la sorte da solo. E così, pensando alla cosa migliore, gli pare di andare da Enea. Se non che, lo trovò in un'ultima fila. Fermo, grazie. Era sempre irritato col nobile primo e nonostante il suo valore non lo odontava. Allora, che cosa succede in questo passo? Succede che Enea è sceso, sì, sul campo di battaglia ma si mantiene nell'ultima fila dell'esercito. Una cosa scandalosa. Se voi considerate che nell'epica guerriera omerica il valore fondamentale è combattere in prima fila. Essere tra quelli che Omero chiama in trono poi, appunto quelli che combattono sul davanti. Essere in ultima fila è invece una manifestazione di migliaccheria, di totale rinuncia all'eroismo guerriero. Ma perché Enea, che è un eroe, ha scelto di combattere in ultima fila? Anzi, neanche di combattere. E chi è in ultima fila probabilmente non arriverà mai a combattere l'esercito. Perché Enea è irritato nei confronti del re Priamo il quale non lo ono abbastanza. Ora, come vedete, è un accenno assolutamente minimo. Eppure questo accenno così minimo è bastato ai autori dell'epoca successive per creare questo filone che vede Enea come traditore. Enea è irritato con Priamo e allora, per odio nei confronti di Priamo, decide di vendere la sua città a Iachei. Lo diceva uno storico di cui non sappiamo nulla che si chiama Menecrate di Xanto, è citato al passo numero 9, e Menecrate di Xanto dichiara che Enea consegnò la città a Iachei a causa dell'oro e quello terriba nei confronti di Alessandro, cioè di padre e figlio di Priamo, e che per il favore reso l'oro di Achei gli concessero di salvare i suoi temi. Enea impatti, lasciato privo di onore ed escluso da ogni sacro privilegio, spolestò Priamo. In seguito ciò divenne uno degli Achei. Addirittura divenne uno degli Achei. Il trannamento è tuttamente radicale che ormai poteva essere considerato non più un Troiano, ma un Necrate di Iachei. Bene, fine del discorso. Passo all'ultima parte, alla conclusione. Prima abbiamo parlato di una caratteristica del mito che è quella di essere un racconto che non raggiunge mai la sua forma definitiva. Adesso vorrei citare una seconda caratteristica del mito. Il mito, anche questo, rende un mito unico e diverso da qualsiasi altro tipo di racconto. Il mito è un tipo di racconto che ha avuto la caratteristica di sopravvivere lunghissimamente alla cultura che lo ha prodotto. Attenzione però, quando dico sopravvivere non voglio dire una cosa banale del tipo ancora oggi si continuano a leggere i miti. Certo, se per questo si continuano a leggere le opere ancora più antiche che i miti greci, voi potete leggere anche opere della poesia egizia o quella babilonese, insomma, che sono ancora più antiche dei miti. Non voglio alludere semplicemente al fatto che i miti si continuano a raccontare e magari che continuano a essere percepiti come affascinanti dagli studenti. Voglio alludere una cosa più profonda, cioè il fatto che i miti antichi continuano a servirci per descrivere eventi del nostro mondo. I personaggi del mito antico cioè sono personaggi di cui noi ci serviamo per descrivere fenomeni del nostro tempo. Vi faccio un esempio banale e non un po' meno banale. Avete mai usato voi nel vostro linguaggio quotidiano la parola narcisista? Chi è il narcisista? Il narcisista è per esempio quel ragazzo o quella ragazza che passano ore davanti allo specchio a togliersi tutte le sopracciglia di troppo o a curare perfettamente il loro aspetto esteriore. Sono sempre impeccabili, sono sempre feste di barrucchiere oppure di barriere e così via. Queste persone noi nel nostro linguaggio quotidiano le possiamo definire dei narcisisti, delle persone innamorate della propria immagine. Ora, quando noi usiamo queste espressioni in realtà usiamo un termine che deriva da noi un personaggio del mito, Narciso. Chi era? Narciso era questo bellissimo cacciatore che siccome era bellissimo era un amato molto stegnoso, molto superbo e quindi tutti i ragazzi e le ragazze che cercavano il suo amore lui li liquidava, diciamo così, li mandava via e che ad un certo momento gli dei lo puniscono di questa sua arroganza, di questa sua superbia e lo costringono a innamorarsi della sua stessa immagine. Un giorno d'estate che faceva caldissimo Narciso era caccia, si piega su una polla l'acqua, su una sorgere dell'acqua per bere, vede la sua immagine riflessa e si innamora di quella immagine. Non capisce che quella immagine non è il suo viso riflesso nell'acqua pensa che sia qualcuno che lo stia fissando dall'altra parte dell'acqua e rimane lì, rimane lì per sempre fissato, paralizzato di fronte a questo amore impossibile e realizzabile. Va bene? I dei quando si vogliono vendicare è una fantasia assolutamente stravitosa. E allora, dal nome di questo personaggio del mito noi chiamiamo Narciso o Narcisista uno che appunto cura in maniera maniacale la propria immagine, perché lo paracamiamo a questo personaggio del mito che nella sua immagine addirittura si innamora. quale può essere ad esempio meno banale? Un grande psicologo, un psicanalista contemporaneo uno che va spesso anche in televisione quindi potrà essere capitato di vedere lo massimo recalcanti si chiama ha scritto recentemente un libro il cui argomento è il seguente qual è oggi, oggi nel 2015-2016 il rapporto che c'è tra gli adolescenti quelli che hanno la vostra età e i loro ceditori, in particolare i loro padri? come si configura oggi il rapporto padre-fino? Allora, lui sviluppa la sua teoria insomma spiega in che modo secondo lui oggi vanno le cose ma quello che mi interessa è che Recalcanti ha deciso di intitolare questo libro di temare questo libro il complesso di telebacconto cioè a dire, per descrivere una situazione assolutamente contemporanea il rapporto che oggi i ragazzi di oggi hanno con i loro padri di oggi Recalcanti è andato a scomodare a un personaggio premito antico il figlio di Ulisse perché in questo figlio di Ulisse che Ulisse è lasciato da bambino per andare fuori a combattere e che ha passato vent'anni ad aspettare il ritorno di suo padre quando finalmente suo padre è tornato si è nuovamente unito a lui e insieme con lui si è vendicato dei pretendenti eccetera eccetera liberato da reggio ha restituito il trono al padre perché nella storia di questo personaggio il carbine ti vede in qualche modo degli elementi che sono fini sono simili e analoghi alla situazione degli adolescenti moderni allora questo significa che il mito non muore significa che il mito non solo continua a essere raccontato ma il mito continua a servirci per pensare a servirci per descrivere le situazioni del nostro tempo è come se il mito avesse già raccontato tutto come se il mito avesse già esplorato ogni possibilità per cui quando noi scopriamo qualcosa di nuovo o che a noi sembra nuovo non dobbiamo fare altro che aprire il gigantesco il testo del mito e dire vediamo un po' qual è il mito antico nel quale già questa cosa si raccontava e diamo questo fenomeno contemporaneo in un personaggio del mito antico bene anche lei è un personaggio il cui mito ha continuato a essere raccontato nel tempo ora potremo deditarci un'altra ora a questo argomento ma naturalmente invece lo spiegheremo in pochi minuti che cosa ne è stato il mito di Enea dopo la fine del mondo antico? raccontiamo soltanto due momenti di questa fortuna moderna del mito di Enea nel medioevo il mito di Enea e il mito troiano in generale diventano un grande mito di legittimazione che cosa voglio dire con questa frase? voglio dire che nel medioevo ci sono moltissimi popoli città, famiglie, dinastie regnanti che si accreditano una discendenza troiana i franchi, i francesi dicono di essere discesi dai troiani ma anche gli inglesi dicono di essere discesi dai troiani ma anche i britanni dicono di essere discesi dai troiani importanti famiglie regnanti italiani famiglie e signorini italiani che la indicano i virgini troiani gli estensi, i signori di Ferrara dicono di essere discesi da un borso che era figlio di Ettore quindi avevano i virgini troiani i disconti di Milano dicono di avere i virgini troiani persino una minuscola famiglia come i trinci che sono una piccola minastia che è governata a Foligno in questo paesino dell'Umbria per il 300 e il 400 dicono che Trinci, il loro cognome Trinci deriva da quello di Tross un eroe troiano che chissà come si era venuto a trovare nell'Umbria va bene, essendo giunto in Italia al sedito di Enea e per non parlare di tutte le città che proclamano di essere state fondate da altrettanti compagni di Enea bene, perché succede questo? perché c'è questa mania di presentarsi come discendenti dei troiani? beh, perché questi popoli che erano venuti dal nulla e che avevano conquistato i territori dell'impero dell'Occidente ad un certo momento sentono bisogno di inventarsi un passato di inventarsi una tradizione e allora che cosa fanno? la prendono dall'unico modello che hanno a disposizione quello dei romani contro i quali stanno combattendo i romani dicono di essere discendenti dei troiani bene, anche noi siamo discendenti dei troiani va bene, e dunque non siamo delle persone venute dal nulla non siamo dei barbari che non hanno il passato siamo delle persone che hanno almeno lo stesso grado di nobiltà dei vicini che stiamo combattendo sono in particolare i francesi da essere molto attaccati a questo mito delle loro vicini troiani pensate che ancora all'inizio del 1700 del 1700 un dotto storico e linguista francese che si chiamava Nicolas Frenet per aver sostenuto in una sua opera che i francesi non erano affatto discendenti dei troiani ma erano dei barbari, cefani, qualsiasi venne infrigionato alla pastiglia della prigionaria di Francia con l'accusa di lesa maestà cioè questo storico aveva sostenuto che non era affatto vero che i franci erano discendenti dei troiani viene accusato di aver violato l'omore e la dignità del popolo francese e nel passaggio alla contemporaneità ovviamente questo mito non ha più ragione d'essere quindi non viene più raccontato ma questo non significa che Enea non abbia tutto posto anche nella letteratura contemporanea ora per ragioni di tempo io ho scelto semplicemente due passi che sono gli ultimi due che avete in fotocopo il primo è di un grande poeta che abbiamo nel 1900 Giorgio Coproni il quale negli anni 50 scrive una raccolta di liriche che si chiama il passaggio di Enea in cui Enea diventa che cosa? diventa l'immagine dell'uomo uscito dalla devastazione della seconda guerra mondiale un uomo che si è lasciato alle spalle soltanto rovine soltanto distruzione, soltanto macerie un uomo che avanza verso un futuro che però non è ancora chiaro non può più tornare indietro perché dietro di lui ci sono soltanto appunto macerie ma non sa neanche bene verso dove sta andando perché il futuro è ancora regoloso non si è ancora definito ai suoi uomini vediamo cosa dice Caproni Enea che in spalla un passato che crolla tenta in mano di porre in salvo e al rullo di un tamburo che è uno schianto di mura per la mano ha ancora così gracile il futuro da non reggersi tutto allora questo piccolo ascanio questo bambino che Enea tiene per mano diventa la metà del futuro è il futuro un futuro che però è ancora bambino non si regge neanche in piedi Enea deve tenere per mano è il simbolo di un mondo che deve ancora essere costruito perché il mondo precedente è stato distrutto dalla guerra ma del quale non si riuscirà ancora a capire che forma va e comunque per il momento è come un neonato che non è capace di leggersi in piedi va bene? e quindi vedete come questo Enea novecentesco è un Enea completamente diverso da quello che gli uomini di Medioevo quello era un Enea crionfante era un Enea epostibite di popoli di re, di signorie eccetera eccetera questo Enea invece è un Enea vinto un Enea sconfitte, un Enea perdente ma è un uso del mito che non è improprio non è abusivo Caprodi non sta facendo violenza al personaggio di Enea perché in fondo l'Enea di Virgilio è anche questo è anche uno sconfitto, un perdente uno che viene da una guerra perduta per di più uno che ha perso la sua città uno che si imbarca ma gli dei non gli dicono chiaramente dove deve andare e allora sbarca in una serie di terre ogni volta convinto di aver raggiunto la meta del suo viaggio invece poi deve scoprire che che non era quella della terra che gli dei gli volevano dare quindi deve nuovamente mettersi in mare e affrontare l'incubo di un altro viaggio l'ignoto eccetera eccetera dunque l'Enea antico è già anche tutto questo semplicemente lo sguardo dell'uomo del novecento valorizza gli aspetti del personaggio mentre gli uomini del medioevo e dell'età moderna magari non valorizzano altri in tempi ancora più vicini a noi perché questo testo ultimo che leggeremo è stato addirittura all'anno curvina in tempi ancora più vicini a noi Enea diventa il simbolo di una figura che è a noi molto familiare anzi per certi versi persino più familiare oggi nel 2016 che non nel 2000 quando Tiziano Rossi ha scritto questi versi vediamo che cosa dice questo poeta contemporaneo detto immigrato sopra questo ovest strana catraneo bagnato impiantito fumando sigaretta guardindo si frappianta ignoto Enea che mica lo si canta chi è questo Enea ignoto di cui parla Tiziano Rossi? è una figura che a me è molto familiare è la figura del migrante della persona che è venuta dalla terra lontana che si è frappiantato nella nostra terra e che si guarda intorno guardingo dice il poeta questo è un termine che magari non appartiene al nostro linguaggio quotidiano quindi potrebbe darsi che non tutti sappiano che cosa significa guardingo è l'atteggiamento di uno che sa che in qualsiasi momento potrebbe verificarsi, realizzarsi una situazione di pericolo per lui la situazione di qualcuno che si sente costantemente sotto la minaccia di un pericolo ma non sa bene questo pericolo da che parte viene allora si guarda continuamente intorno perché sa che il pericolo può arrivare ma non sa da dove può arrivare ecco questa idea si esprime in un italiano se volete un po' raffinato attraverso il termine guardino allora Enea è diventato un migrante qualcuno su cui mai nessuno scriverà un poema epico perché il migrante non è un vincente della storia un perdente della storia tipicamente mentre i poemi si dedicano a vincente solitamente eppure quando Piziana Rossi è dovuto pensare del personaggio del mito antico che potesse corrispondere a questa figura assolutamente contemporanea come quella pericolata gli venuto in mente Enea e anche in questo caso non possiamo dire che sia stata fatta violenza al personaggio di Enea perché l'Enea antico è anche questo perché Enea è anche un personaggio che ha dovuto lasciare la sua terra che ha dovuto attraversare il Mediterraneo un personaggio che quando è giunto in Italia non è stato attuato a braccia aperte non gli sono stati concessi tanti e donne a lui e agli altri triali e uno che ha dovuto guardare Enea attraverso una guerra versato del sangue il suo diritto a insediarsi in questo territorio e dunque l'antico Enea è anche in qualche misura questo non è avventura dal secondo verso dell'Enea perché al secondo verso dell'Enea Virgilio definisce Enea profugus questo lo dice Virgilio nel secondo verso dell'Enea Enea è uno che è profugo quindi quando Tiziano Rossi immagina un'Enea migrante in fondo non sta facendo altro che estrarre una cosa che era già nel testo di Virgilio ecco questo è l'esempio di come funzionano i media antichi e tutto renderci capaci di pensare una situazione assolutamente contemporanea ora qui siamo apparentemente lontani di Virgilio dal mondo antico, dal testo di Virgilio eccetera eccetera eppure forse non è così quando si legge un verso bellissimo di Virgilio contenuto nel secondo libro dell'Enea quello che qui è affrescato quando si legge un verso come Longa, Tidi, Exiliat, Vasco, Romari, Secola, Rambolo che è un verso appunto del secondo libro dell'Enea e la profezia di Creusa già morto ormai a Enea ti aspettano lunghi esili e dovrai attraversare una vasta distesa di mare ecco quando si legge un verso di questo genere nell'Enea che sembra quasi di sentire descrivere una delle tante rotte della disperazione che attraversano il Mediterraneo di oggi con la differenza dei niti non muodono mai i migranti qualche volta invece si vi ringrazio applausi io volevo ringraziare di questa e mi solleviamo per questa appassionata presentazione del mito di Enea abbiamo sentito nelle sue parole proprio domani e mi è piaciuto scoprire che quei principi che guidano spesso noi insegnanti dei vietti ovvero sia la volontà di colunare costantemente il nostro mondo antico con la nostra contemporaneità e credo che tutti voi l'abbiate ritrovato nelle parole del professore e veramente sono grata di questa capacità anche didattica che il professore ha dimostrato evidentemente il passato ginnasiale ha contribuito e quindi veramente come dicevo ribadisco sono molto contenta di questa occasione che abbiamo avuto voglio anche ricordare proprio prendendo spunto da una delle citazioni che il professore faceva a proposito del numero molti di voi sanno che è un marito schermitore e mi piaceva proprio ricordare che il nostro presente anche sportivo voi pensate al saluto che gli schermitori noi sono obbligati a fare appena la squalifica al pubblico all'avversario il saluto finale può esserci legate curiosamente ovviamente anche oggi nello sport e però c'è in questa nobile arde della scherma la continuità del livello antico purtroppo la guerra si è inferocita e quindi non conserva più queste forme ma siamo in grado anche nello sport di mantenere queste nostre radici e quindi di sentire il patrimonio classico come un grande osservatorio a cui noi possiamo costantemente attingere per scoprire la nostra umanità il nostro presente il nostro essere uomini migliori e questo che noi dovremmo che la cultura classica ci aiutasse a farla e soprattutto i miei amici lo sanno dopo i miei amici ormai fanno il coro dal greco dal greco perché ormai è una costante e quindi questo line motif che noi costantemente diciamo pesante sul piano scientifico la teoria democratica degli altri la scienza ci mette tutti gli anni per dimostrarla perché la scienza poi dimostra qualcosa che l'uomo greco avrebbe intuito nella sua potenza di pensiero alla potenza di pensiero del nuovo greco è la potenza nostra quindi dobbiamo riconquistare questa fiducia nelle nostre capacità poi mi è piaciuta moltissimo la giustura che il professore ha fatto perché è stato proprio un ponte verso quello che noi abbiamo pensato come approfondimento perché è stato proprio in Ea un profugo di arcere presente nel passato il primo intervento del gruppo che produrrà poi i lavori dei ragazzi stessi è proprio questo titolo è un elefatico e lei è un profugo è un profugo e quindi abbiamo trovato questo intreccio con l'altra classe che ha sviluppato in maniera più creativa dell'elemento diciamo di studio e noi insomma siamo la cultura mediculturale quindi abbiamo fatto altri percorsi domande? domande al professore io ne avrei moltissime anche con la fonte magari adesso lo mettiamo più mettiamo insieme un po' che non abbiamo citato questa di Tertulliano dimostra proprio l'opposizione nel momento in cui la cultura cristiana cattolica si scontra con la cultura pagana in un momento mi sembra che qui interessante questo stato e delle fonti che ci ha fornito quindi magari si può dirci e approfondire anche questo tema devi dire qualcosa alla professoressa il microfono e ragazzi forse c'è mi è venuta in mente qualche domanda curiosità io ho pensato una cosa che vorrei dire anche ai miei che diciamo spesso un po' anche perché purtroppo noi al ginnasio facciamo la grammatica però la grammatica ha un senso quando abbiamo letto quello che diceva l'anno prossimo Romero e abbiamo letto che c'è questa interpolazione per cui si dice ma no Enea non governerà su Torino ma su Torino pensate tutte quelle noie che vi sottoponiamo della differenza tra Azenaios l'argentino e Azenai il nome sono uguali sì ma sono sempre uguali eh vabbè insomma mica tanto perché avete visto cosa è successo a Enea Enea era destinato evidentemente a essere re dei troiani dei troiani cioè i troiani diventano cibes qui mi ricollego al discorso che abbiamo fatto sulla cittadinanza la civitas sta dove sono i cibes e questo è importante no dei concetti la civitas è un derivato della parola cibes l'importante sono i cibes dove sono i cibes c'è la civitas e infatti questo diciamo all'inizio proprio all'inizio del studio in latino che per dire città in latino ci sono tre parole civitas urs e opidum perché ci sono tre parole non perché sprecavano parole ma perché sono tre cose diverse se c'è una civita sulla cittadinanza ci sarà anche un urs cioè dei palazzi che dopo accolgono questa civitas e poi di solito se l'urs ancora non è abbastanza potente e devono avere muri sarà un opidum con delle mura prima se è abbastanza piccola e abbastanza aggredibile dai nemici poi diventerà l'urs e poi diventerà anche l'urs e poi diventerà anche l'urs con l'altra maiuscola senza mura perché tanto nessuno arriverà mai dentro allora questa è la cosa facciamo tanta fatica all'inizio perché dopo cerchiamo di sviluppare dei concetti su cui si possa lavorare con un minimo di profondità ecco questo è così anche perché voi sono semplici in caso finalmente finiranno a un certo punto la noia della grammatica e affronteranno poi dei discorsi un pochino più così stimolanti ma volevo dire brevissimamente ora è già un'ora che siete seduti e capisco che state scattitando però volevo dire questo appunto che io non spero di essere riuscito a mantenere il mio impegno ad essere breve non oso sperare di non essere stato noioso ma insomma ci ho provato quantomeno se voi avete voglia di aiutarmi a realizzare il terzo obiettivo che mi ero rifiutato stamattina di appunto avere un minimo di dialogo con voi io preferirei però non ascoltare delle domande premoffezionate molto spesso gli insegnanti anche con le migliori intenzioni di questo mondo per non insomma mettere in difficoltà l'ospite che è venuto a parlare così via chiedono ai loro ragazzi di preparare delle domande e a me però piacerebbe che le domande fossero venute fuori dalla chiacchierata che abbiamo fatto e non fossero preesistenti alla chiacchierata medesima insomma perché o sono stato abbastanza bravo da suscitare vostra curiosità oppure se non sono stato abbastanza bravo da farlo allora non mi merito neanche le domande tre volte quindi se ne avete voglia insomma fatelo senza difficoltà io spero di non essere una persona che suscita il timore preferenziale del tipo dire devo fare una domanda quella insomma spero di apparirvi come una persona abbastanza amichevole soprattutto sono uno di quelli convinti che l'unica domanda stupida è la domanda che non viene fatta e quindi se avete il timore di chiedere cose eccessivamente banali sappiate che né io sono qui per giudicarvi né in realtà le domande sono mai banali spesso sono banali le risposte ma le domande di solito non sono banali Sofia ti vedo con aria interrogativa la mia domanda era sul libro sì perché le volevo chiedere appunto l'idea del libro come della venuta di scrivere appunto su Enea perché proprio Enea è appunto anche perché proprio non so come dire questo argomento che l'hai letto questo libro anche se non c'entra molto no no va bene va bene insomma se avete letto il libro avete insomma è come se anche queste sono cose che dico io quindi è come se comunque in qualche misura la domanda fosse suscitata dalle mie parole sia pure in forma di inchiosto su carta allora la risposta a questa domanda è una risposta in realtà molto banale e questo libro si inserisce all'interno della collana dell'editore Inaudi che si chiama Mitologica ed è una collana che della quale sono usciti fino a questo momento credo sette volumi complessivamente in ognuno dei quali viene raccontato un mito antico è uscito il mito di Elena il mito di Narciso appunto il mito delle sirene e il mito di Circe insomma una serie una serie di miti ogni volume consacrato di un personaggio del mito erano usciti esclusivamente miti greci molto giustamente perché il mito è l'invenzione dei greci c'è poco da fare esiste qualche mito romano insomma i miti romani tutto sommato ad un certo momento con il professor Vettini che è il direttore di questa collana ma è anche il mio maestro si disse beh dovremmo fare un libro su un mito romano ora appunto i miti romani in realtà sono abbastanza pochi e non si mette insieme un'enciclopedia diciamo raccogliendo i miti romani e almeno se intendiamo la parola mito nello stesso senso in cui la usiamo a proposito dei miti greci e gli unici personaggi gli unici veri protagonisti di miti romani sono Enea quindi si trattava di scegliere sostanzialmente tra questi due personaggi Enea era un autore un personaggio più interessante da questo punto di vista interessante soprattutto per questo perché è un personaggio diventato dai greci però è un troiano e però è un troiano che in un certo momento i romani hanno deciso di far diventare loro alterati allora si trattava di capire due cose piuttosto curiose la prima è appunto che cosa che cosa è questo personaggio che che cosa succede un personaggio che è stato inventato dai greci e poi però è stato adottato dai romani cosa diverte un mito quando passa da una cultura all'altra rimane invariato beh presumibilmente no presumibilmente il fatto di essere trasferito in un'altra cultura comporta anche dei cambiamenti e una delle cose insomma dei filoni che io cerco di percorrere in questo libro è appunto questo che cosa succede ad un mito greco quando si trapianta in una terra che non è la sua e la seconda cosa la seconda questione interessante è ma per quale diavolo di maggiori i romani sono andati a scegliersi un fondatore così un capo stifiche così di solito se uno deve immaginare il proprio capo stifiche immagina una persona un vincente appunto immagina una persona senza ombre invece era impressionante tutto sommato di sconfitto di vinto qualcuno che appartiene ad un popolo che è perso una guerra perché gli romani sono andati a immaginarsi un fondatore proprio così eppure non era divina questi miti che avevano esistevano altri miti di fondazione magari anche apparentemente più nobilitanti di quanto non fosse quello troiano e quindi il libro nasce sostanzialmente da questo dalla curiosità di esplorare un mito romano io sono latinista non sono grescista quindi il mio oggetto di studio la mia passione al tempo stesso è rappresentata dal mondo romano e quindi questo libro è stato certo insomma se avessi saputo la fatica che ci voleva per farlo non so se avrei accettato la prima ma signor Maurizio Vettini è un dolcissimo padrone insomma una persona alla quale è difficile poter dire di no e ho accolto la sua richiesta e alla fine sono stato contento di averlo fatto perché è stata una bellissima avventura anche lavorarci su questo libro insomma e spero che una parte del piacere che io ci ho messo nello scrivere sia aperta anche in quello che lo leggevi avete bisogno di un incoraggiamento? no siete obbligati se non avete voglia non vi preoccupate io sono curiosa quanto tempo hai richiesto due anni due anni sì perché era ah c'è uno no no due anni e mezzo perché la difficoltà di un libro di questo genere è soprattutto cercare di capire come impostarlo e perché non doveva essere un saggio subiugido gli saggi subiugido ne esistono migliaia voi siete molto giovani quindi non avete ancora insomma fatto esperienza di come funzionano gli studi classici gli studi classici sono una cosa maledetta perché se voi siete fisici e decidete di studiare una particella subatomica magari vi può capitare di leggere soltanto i testi che sono stati scritti negli ultimi dieci anni perché undici anni fa questa particella ancora era ignota e quindi nessuno ce l'aveva scritto sopra ma se voi decidete di lavorare sul testo antropologico dovete pensare che i libri che in teoria dovreste leggere sono tutti quelli che sono stati scritti dal momento in cui è vissuto questo autore fino ad oggi e se poi questo autore è Virgilio quindi un autore letto studiato analizzato sviscerato eccetera eccetera e beh potreste passare tutta la vita potrebbe non bastare a leggere tutto quello che i vostri predecessori hanno scritto su quel determinato argomento allora il rischio era quello che scrive un saggio su Virgilio io non volevo scrivere un saggio su Virgilio non è possibile scrivere un saggio su Virgilio oggi e doveva essere il racconto di un mito appunto il racconto di una storia ed è il modo in cui questa storia è cambiata nel corso del tempo e continua a cambiare e insomma per anche dopo aver circoscritto il focus su questa modalità comunque insomma le cose da dire sono tante perché poi Enea è sempre un autore un personaggio un po' grigio un personaggio un po' opaco forse vi dovrebbe pensare che pochi si sono occupati di questo personaggio ma in realtà ci sono un sacco di testi antichi che parlano di Enea insomma e se gli si vuole esaminare tutti mettere in successione disporghi a costruire una storia insomma un po' di tempo ci vuole e vorrei chiedere Ascanio nei secoli successivi a Vergine ha avuto la stessa fortuna del padre oppure è stato un po' messo da parte? Eh grazie dunque direi direi che sostanzialmente è stato messo da parte anche perché proprio intorno alla figura di Ascanio si crea uno di quei di quei dicoli ciechi da cui il cuore Virgilio è riuscito ad uscire il problema ve lo riassumo in due parole il mito raccontava che Enea era fuggito da Troia portandosi dietro un figlio Ascanio che era il figlio suo ed è la sua moglie troiana che secondo alcune fonti si chiamava Eubidice secondo altre fonti tra cui Virgilio si chiamava Creusa mi raccomando dite Creusa e non Creusa come ogni tanto si sente e l'accento qua sulla Creusa e poi il mito raccontava che Enea giunto in Italia sposava un'altra donna questa donna il vigile si chiama Lavinia e da questa donna aveva un figlio ehm Siglio ora il il chiede sacco insomma il piccolo cieco in cui il mito in un certo momento si infila e non riesce a riuscire è questo ma i giugni la famiglia di Augusto da quale dei due figli viene a viene? perché se viene da Ascanio allora non si capisce quale sia la necessità di costringere Enea a sposarsi con un'altra donna e avere un figlio da quest'altra donna se poi questo figlio ha i figli genealogici non ci serve niente se invece i giugni scendono dal figlio di Enea e da Lavinia allora qual'era la necessità di far arrivare Enea in Italia con Ascanio? insomma c'è sempre un figlio di più si potrebbe dire perché appunto l'accumularsi lo stratificarsi di varianti di un mito a volte crea queste situazioni insomma insolubili e il giugno stesso non aveva ancora risolto questo problema perché da una parte parla di Ascanio che poi viene chiamato Iulo e quindi diventa il capostivite dei giuri nel primo libro dell'Enea nel sesto invece parla di Silvio Postumo il figlio che nasce da Enea dopo la morte di Enea perciò si chiama Postumo perché la madre lo partorisce quando il padre è già morto e che da un'ingegnere tutta la dinastia dei re di Alvalonga da cui dovrebbe venire anche la madre di Roma del Remo e quindi insomma c'è questo problema per cui Ascanio è sempre stata una specie di granellino di sabbia nell'ingranaggio del mito che è stato più un problema da risolvere che non un'opportunità una possibilità proprio perché il mito aveva creato questa doppia figliolanza di Enea e insomma qualunque situazione si scegliesse gli storici mitografi antichi che hanno scelte tutte quelle possibili non si riusciva a venire fuori c'era sempre uno che avanzava in qualche misura perché o era inutile aver fatto venire a Scania fino in Italia se poi a Scania non doveva produrre nessuna discendenza politicamente e genealogicamente utile oppure era inutile appunto far sposare Enea con una principesse tale che fargli avere un figlio se poi questo figlio doveva essere insomma il problema del mito antico insomma dormiamo lo stesso la notte però insomma è per farmi capire come a volte il mito entra in certi meandri da cui poi esso stesso non riesce a riuscire prego allora potremmo chiedere dopo averci comunque adesso esposto di esercizare in quanto si è ispirato e le interpretazioni degli altri su con quel testo lei si può dare un piccolo commento su la propria storia di Enea cioè ecco Dio quanti giorni ho per rispondere a questa domanda e allora intanto la ringrazio due cose bellissime devo dire la prima è questa Enea non è un personaggio che solitamente suscita gli entusiasmi popolari e mi riesce difficile immaginare che quando qualcuno mi ha detto andiamo a sentire una lezione su Enea voi abbiate detto e vai era una vita che aspettavo questo momento mi riesce difficile immaginare che sia così Enea solitamente nel nostro immaginario è un personaggio un po' grigio un po' anche un po' antipatico diciamoci la verità questa storia che ha mollato la sua donna con il più classico degli argomenti usati dai maschi ma chi ti aveva promesso niente voglio dire di solito lo rende molto antipatico soprattutto alle ragazze che avete perfettamente ragione avete fatto l'antipatico perché effettivamente lo è dice avevo affatto cercato di fuggire di nascosto invece non è vero perché il giro ci ha appena raccontato che è andato dai suoi compagni gli ho detto preparate la lotta ma non fate sapere niente in giro insomma è un personaggio piuttosto oltre tutto lei ha avuto anche il torto di non essere interpretato da Brad Pitt cosa che invece rende sempre le ragazze suddette solitamente molto più simpatico a chi ma il punto è il punto è la cosa importante è che in questo suo apparente grigione in questa sua apparente opacità in questo suo apparire spesso agli occhi dei ragazzi come un burattino nelle mani del fatto per cui spesso i ragazzi dicono ma io uomo ma non ha spina gorsale quest'uomo ma possibile che si lascia guidare che lascia che sia il destino a decidere per lui perché non prende in mano la sua vita ecco allora in questo suo essere così per certi versi antipatico Enea è però anche un personaggio estremamente istruttivo per aiutarci a capire che cos'è la cultura romana perché la cultura romana è esattamente questo la cultura romana è esattamente una cultura nella quale quello che viene valorizzato non è l'autonomia del singolo individuo ma è la capacità del singolo di fare gioco di fare squadra all'interno di un progetto collettivo questa è la cultura romana la cultura romana è la cultura nella quale il singolo conta nella misura in cui gioca il gioco che giocano tutti quanti e contribuisce al successo politico e militare del suo paese e allora Enea ci serve anche se non ci è simpatico però ci serve come chiave per entrare dentro la cultura romana in base al principio dimmi che eroe hai e ti dirò chi sei sulla base del personaggio che una certa cultura si sceglie come eroe noi possiamo capire molto di quella cultura va bene e quindi ci serve ci serve a questo è un personaggio che è importante da questo punto di vista perché è un grimaldello attraverso il quale siamo in qualche misura a scassinare l'anima dei romani e cercare di capire come dovessero il mondo in quali valori credessero che tipo di immagini sono di se stessi e degli altri in esse e la seconda idea che io mi sono fatto insomma lavorando su questo personaggio è che è un personaggio che ad un certo momento viene scelto dai romani perché perché i romani non vogliono percepirsi come greci esisteva una serie di miti che riconducevano alla fondazione di Roma all'iniziativa dei greci addirittura c'era una variante del mito secondo la quale Roma era stata fondata da Ulisse i romani avrebbero potuto scegliere questa versione del mito sicuramente una versione molto onorevole Ulisse era un personaggio conosciutissimo anche a Roma a tal punto conosciuto che la prima opera della letteratura latina la prima in assoluto che sia mai stata scritta è una traduzione latina del Vissè questo per far capire quanto il personaggio di Vissè fosse popolare anche nella cultura romana eppure i romani scartano questa possibilità e scelgono di farsi fondare da un altro lato questo non devo rivedere perché è un modo per fare la cultura romana a prendere distanze dal mondo greco i romani non vogliono sentirsi come dei piccoli greci discendenti dei greci e però a tempo stesso lo fa attraverso un personaggio che è un personaggio del mito greco non è greco ma è stato inventato dai greci e allora scegliere in una maniera molto intelligente molto sapiente e di non essere greci però a tempo stesso di non esserlo parlando la lingua dei greci cioè scegliendo un mito che comunque era noto in tutto il Mediterraneo e che poteva consentire che era un antipangolare di sé anche a popoli che non erano che erano gli altri popoli dell'interno che condividevano appunto la cultura greca ora forse è un po' troppo sofisticata lo struttino passato ma insomma questa è l'idea che io mi sono fatto di una cosa che altrimenti potrebbe sembrare scarsamente spiegabile per quale ragione i romani hanno scelto appunto proprio questo è sì un altro ragazzi ma per quale motivo i romani hanno voluto che il loro fondatore avesse diciamo avuto il mio sentimento per la regina di cartagine che è sempre stata cioè che non hanno sempre un po' identificato con il loro sì grazie allora secondo quello che si legge in tutti i manuali di letteratura il mito dell'amore è un mito di tipo eziologico dicono gli antichi eziologico è una parola difficile per dire una cosa semplice e cioè che il mito serve per spiegare la causa di un certo fenomeno allora questo mito dell'amore tra Enea e Cartagine sarebbe tra Enea e Didone sarebbe nato all'epoca delle guerre più uniche e sarebbe nato per spiegare le ragioni della mortale inimicizia tra Roma e Cartagine da dove nascerebbe questa inimicizia dal fatto che avendo dovuto Enea abbandonare Didone che era enamorato di lui Didone lo maledice e profetizza che fra la sua stigione quella dei cartaginesi la stigione di Enea quella di Roma ci sarà un'eterna inimicizia gli antichi sentivano questo bisogno di usare il mito come origine della storia quando dovevano spiegare un certo fenomeno spesso ricorrevano al linguaggio del mito allora anche per spiegare l'origine di una guerra che sembrerebbe che noi magari saremmo portati a legare a fenomeni economici o politici o di potenza alla ricerca del potere e così via gli antichi amavano usare il linguaggio del mito i cartaginesi romani si odiano perché ai tempi del mito la regina Cartagine era quella ora il vero problema è perché Virgilio ne parla ancora quando Virgilio scrive le leide sono passati oltre 100 anni dalla distruzione di Cartagini non c'era più bisogno di raccontare un mito che spiegasse le ragioni dell'odio fra romani e cartaginesi perché erano i cartagini non era più il problema i romani nel 146 alla fine della terza catacomica avevano un asa al suolo avevano spasso persino il sale sopra al sito di Cartagini perché non ci crescesse neanche un filo d'erba quindi perché Virgilio doveva ancora sentire il bisogno di giustificare una cosa che forse quando i primi poeti di Cartagini ne avevano parlato era l'ordine di Giorga un fatto attuale perché si stava combattendo la seconda guerra comunica ma all'epoca di Virgilio non aveva più un'attualità e allora perché lo fa? al mio modo di vedere lo fa per questo perché nella cultura romana come anche in altre culture le donne la donna è la tentazione dell'eroe la tentazione per la quale l'eroe deve passare la tentazione che l'eroe deve vincere per essere eroe tu non sei eroe se non sei passato attraverso una serie di prove che hanno dimostrato il tuo eroismo la donna è una di queste prove per certi versi è la più difficile da superare perché di donne che cosa fa? di donne è come se dicesse avete presente l'episodio che si vede quando Ulisse passa con la sonata e le sirene cantano questo canto meraviglioso e dicono ma dove vai? ma fermati qui fermati vieni da noi da noi sarai felice scegli su quest'isola non continuare la tua navigazione ecco di donne in una certa tua misura è questa e la donna che dice all'eroe fermati fermati stai qui qui sarai qui sarai accudito qui sarai amando qui potrai farti la tua casa non continuare il tuo viaggio lascia perdere la missione che i tei ti hanno affidato arrivare in Italia fondare un uomo lascia perdere fermati resta qui ecco questa è la grande tentazione la tentazione dell'eroe di rinunciare alla sua missione di lasciar perdere il fatto che gli è stato affidato di ricercare una felicità che è esclusivamente individuale esclusivamente personale e invece l'eroe l'eroe romano è tale come dicevamo prima proprio nella misura in cui mette da parte la sua felicità personale a favore di un progetto che è il più grande di lui Enea sa benissimo che della nascita di Roma lui personalmente non farà nessun vantaggio Roma sarà fondata tre secoli dopo la sua morte lui non la verrà mai i siti li vengono fatti vedere negli imperi i futuri eroi di Roma ma lui da questa cosa non farà nessun beneficio anzi lui si prende soltanto il brutto lui fa il lavoro sporco diciamo così per consentire la fondazione di Roma ma non è il rai frutti in nessun modo ma è e e e